Musica Maxi operazione della direzione distrettuale antimafia contro il clan operante nella zona orientale di Napoli 17 ordinanze, 14 in carcere, 3 ai domiciliari Uova contro un presidio dell'Ipercoop di Avellino, 5 giovani denunciati Il prefetto Galeone saluta il Sannio sul caso migranti, la mela marcia può esserci CGL verso il 18esimo congresso, l'impegno per la legalità a favore della crescita del Sannio e incontro alla Rocca di Benevento Roberto Insigne è un calciatore del capoluogo Sannita, definiti anche gli ultimi dettagli Raggiungerà la squadra in ritiro a cascia Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV Colpo inferto contro il clan napoletano Mazzarella Sono 14 gli arresti più altre 3 persone ai domiciliari Diversi i crimini contestati Il servizio Vasta operazione della Polizia di Stato a Napoli Coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia Contro l'associazione camorristica Mazzarella Operante prevalentemente nell'area orientale, quartiere di San Giovanni Attiduccio 17 ordinanze, 14 in carcere, 3 domiciliari 17 soggetti indiziati a vario titolo Di associazione per delinquere di stampo mafioso Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti Tentato omicidio, estorsione, lesioni personali, minaccia, violenza privata Danneggiamento, detenzione e porto illegale di arma con l'aggravante In primavera si era innescata una nuova guerra per il controllo dei territori E alcuni colpi furono esplosi nei pressi della casa di un pregiudicato Considerato affiliato al clan Mazzarella Le indagini che sono state svolte dalla squadra mobile tra il 2013 e il 2015 Corroborate dalle attività tecniche e dal contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia Hanno documentato le responsabilità di capi, promotori e sodali dell'associazione camorristica Che nonostante le sentenze di condanna emesse nei confronti delle figure apicali E i numerosi arresti in fragranza subiti È stata in grado di riorganizzarsi e di compiere azioni violente Per affermare la supremazia territoriale, in particolare a discapito, dello storico clan rivale dei Rinaldi Le indagini inoltre hanno consentito di ricostruire il contesto criminale in cui sono maturati i seguenti fatti delittuosi Individuandone i mandanti e gli autori materiali Tentato omicidio nei confronti dei componenti della famiglia Capodanno Avvenuto a Napoli il 3 febbraio 2015 Nello specifico due degli indagati esplosero numerosi colpi d'arma da fuoco nei confronti delle vittime Che si trovavano all'interno di un negozio di loro proprietà Tra gli astanti, scampati, miracolosamente all'agguato Vi era un bambino di due anni Scombinata una banda di ladri che avrebbe effettuato furti in diverse attività commerciali calabresi e campane L'operazione è stata effettuata dai carabinieri del Comando Compagnia di Vallo della Lucania Con l'ausilio dei militari del Comando Provinciale di Cosenza I militari hanno tratto in arresto 5 cittadini romeni e 2 italiani Mentre altre due persone, sempre di nazionalità romena, risultano irreperibili Gli indagati, secondo l'accusa, sarebbero responsabili di almeno 10 furti Realizzati tra settembre 2016 e febbraio 2017 Anche a Lioni e Morra dei Santis, in provincia di Avellino E a Mondragone, in provincia di Caserta La banda colpiva soprattutto bar, rivendite di tabacchi e saleggiochi Una vasta operazione è stata portata avanti dai finanzieri di Chieti Ha coinvolto anche Napoli e Latina Sentiamo Un sodalizio che operava tra Abruzzo, Lazio e Campania È stato sgominato ed aveva costituito e gestito un circuito Al cui interno si cedevano prodotti informatici, cosmetici ed elettrodomestici Sfruttando l'interposizione di cosiddette società cartiere e società filtro Gestite da prestanome L'inchiesta, denominata Spectral Kingdom Avviata dalla Procura della Repubblica di Chieti E poi trasferita per competenza a quella di Latina Sono indagate 73 persone a vario titolo Per associazione a delinquere Finalizzata la frode fiscale e contributiva Con 36 società coinvolte Fatture false emesse per 190 milioni di euro Le indagini hanno preso le mosse tre anni fa Da una segnalazione della finanza della Slovacchia Alla finanza di Chieti su una fattura di 100 mila euro Che una società slovacca aveva inviato Ad una società abruzzese di San Giovanni Teatino I particolari dell'operazione sono stati illustrati a Chieti Nel corso di una conferenza stampa Questo, come ho già detto, è un elemento Che stiamo cercando di valutare attentamente Con le procure competenti Sul momento ovviamente le indagini stanno proseguendo Ma non posso aggiungere altro Mi corre l'obbligo di dire anche un'altra cosa Che in questo momento stiamo procedendo al sequestro Di 14 unità abitative Di decine di partecipazioni societarie E di ben 107 conti correnti posteri e bancari Un allevamento di animali In pessime condizioni igienico-sanitarie Allestito abusivamente in un fondo agricolo In cui sono stati rinvenuti anche sostanze stupefacenti Armi detenute illegalmente Tra cui due pistole ed un fucile Con matricola a brasa Questo è il risultato di un'operazione condotta Dai carabinieri di Riccione, Cattolica E della stazione forestale di Rimini Che hanno arrestato tre componenti Di un nucleo familiare originario del napoletano Residente nel capoluogo romagnolo Estorsioni, additte edili Ordinanze nel Nolano Per tre affiliati Facevano parte prima del cran napolitano E poi del cran di Domenico Sentiamo I carabinieri del nucleo investigativo Di Castello di Cisterna Hanno dato esecuzione ad una ordinanza Di custodia cautelare in carcere Emessa dal Tribunale di Nola A carico di altrettanti soggetti Già noti alle forze dell'ordine E condannati in primo grado Appene che vanno dai 12 anni a 8 mesi Ai 16 anni Perché responsabili a vario titolo Di associazione di tipo mafioso E di estorsioni Nonché di un tentato omicidio E di detenzione Porto illegali Di armi da fuoco Reati e gravati Dal metodo e finalità mafiose Tra il 2002 e il 2004 Hanno accertato le indagini Hanno partecipato Al cran camorristico Dei Napolitano E successivamente Dal 2004 al 2011 A quello dei di Domenico Due organizzazioni considerate Articolazioni del clan Moccia Periodi durante i quali Hanno imposto estorsioni A ditti edili del Nolano Uno degli indagati Dovrà rispondere anche Del tentato omicidio Del 2005 Del reggente La faczione criminale contrapposta Tragedia del mare Nel pomeriggio di martedì A Palinuro Nel Cilento Pasquale Lettieri Giovane 19enne di Rofrano E' annegato Nel tratto di mare Antistante La spiaggia libera In località Saline Mentre faceva il bagno In compagnia di un amico Manuel Gregorio Secondo una prima ricostruzione Dell'accaduto Il ragazzo si sarebbe tuffato Nonostante le proibitive Condizioni del mare Risucchiato dalla corrente Insieme all'amico Ad intervenire Sono stati i bagnini Del lido più vicino Tratto in salvo Gregorio Per il giovane 19enne Non c'è stato nulla da fare Avviata Un'inchiesta Uova contro un presidio Dell'Ipercoop Di Avellino Cinque giovani Denunciati Il servizio Lanciarono uova Contro un presidio Dell'Ipercoop Una triste pagina Nella già triste vicenda Dei 150 lavoratori A rischio licenziamento I carabinieri Della stazione di Avellino Hanno deferito Alla locale Autorità giudiziaria Cinque giovani Di età compresa Tra i 18 e i 25 anni Ritenuti responsabili Del reato Di getto pericoloso Di cose L'episodio risale Alla scorsa settimana Quando nel cuore Della notte Dei giovani A bordo Di un'autovettura Sono passati Davanti all'Ipercoop Di Avellino Dove era in atto Un presidio Organizzato dai lavoratori E dopo aver asportato Una bandiera sindacale Successivamente Ripassarono E lanciarono La stessa Nonché delle uova Alle persone presenti Al sit-in L'attività investigativa Immediatamente avviata Dai militari Dell'arma Attraverso l'acquisizione Di utili informazioni Nonché di video Delle telecamere Di tutta la zona Ha permesso di addivenire All'identificazione Dei cinque giovani Presunti responsabili Di cui tre Del capologo Irpino E due Dell'Interland A carico dei giovani È dunque scattata La denuncia In stato di libertà Alla procura Della Repubblica Di Avellino Per il reato Di cui All'articolo 674 Del codice penale Dal 12 luglio Non si hanno più notizie Di Michele Gallo Un giovane Di 25 anni Di sala Consilina Intorno alle 2.30 Di quel giorno Il 25enne È uscito di casa Senza dire nulla Ai genitori Con cui vive Già dalla mattinata Del 12 luglio Sono Iniziate le ricerche Del giovane Che privo Di telefono cellulare Indossava Dei pantaloncini scuri Una maglia A maniche lunghe Blu E scarpe Da ginnastica bianche Le forze dell'ordine I volontari Della protezione civile Di sala Consilina Hanno concentrato Le ricerche Nell'area Del golfo Di Policastro E del basso occilento A sud Di Salerno Il prefetto Paola Galeone Saluta Benevento Il Sannio Interviene Nella stessa occasione Sul caso migranti La Mila Marcia Ha detto Può esserci Sentiamola Una serata Per salutare Il Sannio E ripercorrere Con emozione La sua esperienza Durata quattro anni Tra eventi straordinari Ed emergenze Il prefetto Di Benevento Paola Galeone A margine Della serata Al teatro San Vittorino Per la prima volta Ha detto la sua Sulla recente inchiesta Sulla gestione Dei centri Di accoglienza Di migranti Che a giugno Ha portato All'arresto Di cinque persone Tra le quali Anche un funzionario Che ha prestato servizio Presso la prefettura Del capoluogo La mela marcia Può esserci Asserito Ma questo Non deve infangare Il lavoro Delle tante persone Che si impegnano Concretamente Il Sannio Oltretutto Ha dato più Dell'intera campagna Infatti Ora abbiamo Restituito 500 migranti Nella ridistribuzione Regionale Proprio perché Il Sannio Ha dato tanto La prefettura In questa storia È veramente Partelesa Perché Non sono eventi Comunque Negativi Che però Purtroppo Appartengono Al singolo uomo E questo Può accadere ovunque CGL Verso il Diciottesimo Congresso L'impegno Per la legalità A favore Della crescita Del Sannio L'incontro Alla Rocca Di Benevento La Rocca Direttore Ha ospitato Il convegno Legalità Per la crescita Per lo sviluppo E per la democrazia Organizzato Da CGL Benevento E CGL Campania Insieme ad Ampi E Libera Visto Il congresso Nazionale Numero 18 Del sindacato E a cui Ha preso parte Anche il segretario Di CGL Nazionale Giuseppe Massafra Per quanto riguarda La CGL Per noi La legalità È un Valore Imprescindibile Per costruire Il futuro Di questo Paese Non è solo Un valore Etico Da affermare Un valore Politico Un valore Sociale Un valore Economico E come tale Ci impegna Su tutti I fronti Vogliamo partire Proprio Dal mettere Al centro Il tema Della legalità Come presupposto Fondamentale Anche nell'agenda Del governo Del nostro Paese Partendo Dalla considerazione Che questo Rappresenta Il vero Cappio Al collo Per lo sviluppo Del nostro Paese E vogliamo Soprattutto dire Ribadire Che non Possiamo accettare Che questo Cappio a collo Che spesso Passa Dal potere Dall'affermazione Della criminalità Organizzata Non solo Rispetto A reati Quali La corruzione L'evasione Che rappresentano Un punto Di svolta Necessario Per costruire Una direzione Di marcia Positiva Ma anche Per fermare Quel business Che viene fatto Sulla pelle Dei più deboli Che spesso Invece diventano Il bersaglio Nella narrazione Comune Il bersaglio Per deresponsabilizzare Rispetto A certe scelte Lavoro Disoccupazione Giovanile Appalti Tutela Dell'ambiente Eolico Selvaggio Ma anche Questioni Migranti Ecco invece Noi partendo Dalla condizione Dei più deboli Come abbiamo fatto Qui a Benevento Denunciando Le condizioni Materiali Di chi purtroppo È in difficoltà Vogliamo affermare Che la legalità È un presupposto Fondamentale Vogliamo affermare Che la lotta Alla camorra Alla criminalità Organizzata È per noi Un impegno Solenne Continuano i disagi In corsia All'ospedale Umberto I Di Nocera Inferiore Emergenza Ancora in prima linea Scopriamo perché I letti Nei corridoi L'ulteriore riduzione Dei posti Letto Nei reparti I turni infernali A cui medici Ed infermieri Sono sottoposti Gli enormi accessi Al pronto soccorso Dell'ospedale Umberto I Hanno spinto Il presidente Della commissione Speciale sanità Del comune Di Nocera Inferiore A chiedere Al ministro Della salute Giulia Grillo La fine Del commissariamento Che ci incatena Ha scritto Vincenzo Stile Grillo La scorsa settimana Aveva visitato Alcune strutture Ospedaliere Dopo lo scandalo Della chiusura Di un reparto All'ospedale Del mare di Napoli Per la festa Di compleanno Del primario Ed era stata Anche a Scafati Tuonando Senza mai nominarlo Su Vincenzo De Luca Sostenendo Che non era più Il caso Che facesse Il presidente Della regione E il commissario Alla sanità Qui a Lumberto I Ha scritto Stile Ci prepariamo A passare Altri due mesi Estivi In affanno Con l'accorpamento Dei reparti La chiusura La chiusura La chiusura degli ambulatori La riduzione Dei posti letto E degli interventi Di elezione Che però Questo Sia l'ultima estate Di sofferenza Da anni Ci sono problemi comuni In tutta la campagna Il bluco Del turnover Dovuto al commissariamento Ha impedito Che si potesse Programmare Altro Anche se Il commissario Mario Iervolino Reggente Dell'Azio Salerno Appena Una manciata Di giorni fa Ha già posto In essere Gli atti Che integreranno Il personale Ma ci vorrà Ancora qualche mese Caro ministro Ha ribadito Stile L'unica cosa Da fare È togliere Il commissariamento E lasciare All'amministrazione Regionale Ordinaria I pieni poteri Per poter assumere E normalizzare Una situazione Incancrenita Il commissariamento Della sanità Campana Non può essere Infinito E si deve Fermare Proprio Quando si arriva A situazioni Come quella Odierna Dove senza La libertà Di fare Nuovi concorsi Per sostituire Il personale In pensione E colmare Le piante organiche Non si può fare Una buona sanità Tutti gli operatori Hanno il diritto Di lavorare Senza stress Da super lavoro E tutti i cittadini Hanno il diritto Di essere curati Anche di notte Siamo allo sport Di Maria Benzema Cavani Vidal I sogni estivi Dei tifosi Del Napoli Continuano E sale la pressione Sul club Azzurro Per provare A piazzare Un gran colpo Che possa in qualche modo Replicare All'arrivo Di Cristiano Ronaldo A Torino Chiuso il mondiale Il mercato del big È esploso E il Napoli Si muove sotto traccia Per provare A piazzare Un colpaccio Che però Non faccia sballare Il monte In gaggi Del club Salito Sensibilmente Negli ultimi due anni Dopo i rinnovi A catena Di campioni Azzurri Un cartone animato Con Amsic Che sfida Una pantera E così che il Napoli Ha lanciato La nuova maglia Per la prossima stagione La combat Che evidenzia Tra le trame Del tessuto Il volto Di una pantera Nel breve cartone animato Di lancio Il capitano azzurro Assieme alla versione Cartoon Di Cajon Milik Zielinski All'An Vaga Per una periferia Degradata Alla ricerca Di una pantera Per affrontarla Il lancio Della nuova maglia Coincide anche Con l'annuncio Dell'accordo Siglato Tra il Napoli E Amazon Roberto Insigna Tutti gli effetti Un nuovo calciatore Del Benevento Arriva in prestito Con diritto Di riscatto E contro riscatto In caso di permanenza In B Riscatto Che diventerebbe In caso di approdo In massima serie Insigne Raggiungerà in queste ore I compagni In ritiro A Cascia Era questa l'ultima notizia Vi lascio in compagnia Delle prisioni del tempo E con il resto La nostra programmazione Grazie dell'attenzione Arrivederci Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento Curato da Il Meteo Previsioni per giovedì 19 luglio Sull'Italia Sarà ancora Una bellissima giornata All'insegna Del bel tempo Saranno rare Infatti Le precipitazioni Ma analizziamo meglio La situazione Nel dettaglio Tanto sole Sulle nostre regioni Settentrionali Dove il cielo Si presenterà sereno O al massimo Poco nuvoloso Ovunque Possibili soltanto Degli isolati Piovaschi Pomeridiani Sui rilievi Del Triveneto Al centro Non cambia di molto La situazione Anche qui Sarà ampiamente Soleggiato Su tutti i settori Tuttavia Non si escludono Degli isolati Acquazzoni Al pomeriggio Sul Molise Cielo sereno Invece Altrove Splendida giornata Di sole Anche al sud Il cielo Sarà sereno Sulla Sicilia Al massimo Poco nuvoloso Sui settori Peninsulari I venti Saranno deboli Da direzioni Variabili Su tutti I bacini Il clima Risulterà caldo Con le temperature Minime Che saranno infatti Comprese Tra 14 E 23 Gradi Su tutto Il nostro paese Per quanto riguarda Invece Le massime Prevediamo Fino a 34 Gradi Al nord Fino a 33 Gradi Al centro E punte Di 36 Gradi Al sud L'espo 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 Grazie.